Terzo minuto della ripresa, 0 a 0 dalla Senigallia, calcio di punizione per l'Alessandria. Sul pallone leviamo Rantier, anche Obodo, momento importante della gara. Calcio di punizione da una ventina di metri, prende le distanze da Rantiettaddei, mentre sul pallone sempre fermo il numero 10. Rantier, Obodo, qualche metro indietro, tutto il pomo lì, il pallone è pronto, attenzione, parte Taddei, palla dentro, palla dentro, 1 a 0, l'ha infilata nella P7 alla destra, 4 minuti della ripresa, 1 a 0, l'ha infilata nella P7 alla P7 alla P7, 4 minuti della P7, 4 minuti della P7, 4 minuti della P7, 5 minuti della P7.